Le assenze prolungate di Lanza e Giuric in vista della fase più importante della stagione non potevano lasciare indifferenti Mr. Stoicev nei vertici della Trentino Volley. L'asso calato nelle ultime ore di quelli che contano sicuramente è un asso di cuori, visto che i tifosi della Diatec non hanno mai amato tanto un giocatore quanto Matej Kaczynski. Il martello bulgaro conclusa la sua stagione col J-Tect Stings torna senza nessuna pretesa all'ombra del bondone per dare il suo contributo alla difficile scalata allo scudetto. Dall'inizio della trattativa né il club giapponese né Matej hanno chiesto i soldi, quindi parliamo solo della relazione umana e della volontà spontanea di Matej aiutare la sua squadra. Matej sarà in campo già in gara 1 dei quarti contro Molfetta, un paio di sedute con i vecchi e nuovi compagni di squadra e poi si gioca l'appuntamento giovedì 10 marzo ore 20 e 30 al Palatrento. In carriera Matej ha collezionato con la maglia di Trento 4812 punti in 325 gare e contribuito a mettere in bacheca 15 titoli. Tornerà a vestire la sua maglia numero 1 che Trentino Volley gli riserverà per sempre in esclusiva. Il Kaiser non potrà invece giocare in Champions League.